Allora, in questa, diciamo così, fine di questa lezione di tre ore, affrontiamo il primo argomento, seppur teorico, del corso, che è quello che dovrebbe darci un po' le basi per capire poi cosa succede nel resto, che sono le architetture web. Allora, fatemi partire da una domanda, visto che vi piace tanto rispondere. Immaginiamo, anche non, di essere in discoteca e di ascoltare. Immaginiamo di, o anche no, di aprire un browser, di andare nella barra degli indirizzi e di scrivere un indirizzo, www.polito.it e premere invio. Ecco, cosa succede in pratica, cosa succede? Se tutto va bene. Vedo la pagina. Vedo la pagina, grazie. Cosa succede a livello informatico? Ve lo siete mai chiesto? O lo sapete? Succedono un po' di cose prima di quello, ma... Allora, voi scrivete www.polito.it, premete invio. Prima di tutto, la prima cosa che uno fa è capire, no, che cos'è www.polito.it, perché su internet gli indirizzi sono mappati su indirizzi numerici, no? Quindi per il Politecnico sarà 130, 162, qualcosa, 5, boh, non so il sito dove sia stato, però nella famiglia 130, 162, sicuramente. A quel punto dice, ok, il DNS, chi per lui, la cache del browser, non importa, e risponde, ok, guarda che www.polito.it, in realtà, corrisponde a un indirizzo che è 130, 192, 100, sì, 130, 192, 163, 26, sto inventando. Ok, a quel punto il browser fa una richiesta al server che risponda a quell'indirizzo, un po' come, fatemi semplificare, un po' come se voleste andare a cercare qualcuno a casa, avete bisogno di sapere l'indirizzo, no? Quindi fa una richiesta all'indirizzo e gli chiede, c'è qualcuno a quell'indirizzo che può rispondere, fornisce una pagina web? Perché magari quello è un server, ma non è un server web. È un computer che risponda a quell'indirizzo, ma non con una pagina HTML, quindi non una pagina che può ricevere un browser. A quel punto, sì, perché sappiamo che il sito del Politecnico quando funziona, funziona, ed è una pagina web, e quindi a quel punto il server gli risponde al client, quindi al mio browser che gira su questo computer, riceverà una risposta dal server del Politecnico, che sarà da qualche parte, non qui, non qui in questa stanza, sicuramente non qui su questo mio computer, e gli manderà, che cosa gli manda? Al client? Al browser? La pagina. Che cosa vuol dire la pagina? La pagina HTML, e poi? CSS, JavaScript, e poi? Gli asset, le immagini. Le immagini, i font, tutto quello che è contenuto extra, no? Se voi andate su www.polite.it, la prima cosa che vedete è un'immagine enorme, che occupa tutto lo spazio del browser, no? O quasi, tutta l'altezza. Quindi quella sicuramente viene ricevuta. Cosa succede? Ok, quindi abbiamo la pagina, questo è più o meno il modello mentale di come funziona un sito web. Se scrivo un altro indirizzo, invece che www.polite.it, scrivo... Un altro indirizzo? Ditemi un altro indirizzo? www.google.com.it, succede esattamente la stessa cosa, no? Da capo. Se invece sono nella pagina... Poi adesso le vediamo queste cose, ma se io sono nella pagina www.polite.it e schiaccio su un link, schiaccio su un bottone, che mi mantiene dentro polite.it, quindi non è che vado fuori su un altro sito. Cosa succede? Quello che succedeva prima potrebbe succedere qualcosa di diverso? Chi lo sa? Quindi, opzione 1, io sono su www.polite.it, clicco su didattica, che mi porta un'altra pagina sotto www.polite.it. Opzione 1, risuccede, diciamo così, esattamente quello che succedeva prima, tolto la risoluzione dell'indirizzo, perché sono rimasto solo l'indirizzo. Quindi ricevo di nuovo la pagina, il CSS, le immagini, i video, eccetera. Opzione 2, succede qualcos'altro. Opzione 3, potrebbe succedere qualcos'altro, oppure quello. Che è l'opzione più favorevole, no? Perché nell'errore. Chi dice opzione 1, quindi succede esattamente quello che succedeva prima? Opzione 2, succede qualcosa di diverso? Ok, opzione 3. Ok, poi c'è un certo numero di sempre astenuti. Ok, nel caso del poli, succede esattamente quello che succedeva prima. Quindi riceve la pagina da zero, col contenuto, eccetera. Nel caso di Instagram, presente Instagram? Sì? Ok. Non l'applicazione, ma ovviamente il sito web, quindi quello che andate su un browser, non succede esattamente la stessa cosa. ma succede qualcosa di diverso. Quindi, in parte richiederà le informazioni al server, in parte no, in parte gestirà tutto il browser. Questi sono, diciamo così, due tipi di architetture web diverse. La prima, il punto di partenza è lo stesso. Quando voi andate su v.prodito.it o su v.instagram.com quello succede esattamente la stessa cosa. Prima di tutto si trova l'indirizzo e poi la prima pagina arriva. Interamente, con tutte le sue risorse. Quello che succede da secondo click in poi dipende da quale architettura web si sta utilizzando. Se utilizziamo un'architettura un po' più classica, che è quella che faremo noi in questo corso, allora succede come sul sito del Poli. Se utilizziamo una delle architetture più moderne, che sono quelle che non faremo in questo corso, ma che per esempio, come diceva prima il vostro collega, si fa a web application alla magistrale di informatica, o applicazioni web, che è lo stesso corso, in un'altra lingua, alla magistrale di informatica, è un'architettura più moderna. Andiamo a vederle. Allora, l'obiettivo è ovviamente quello di capire che cos'è il web, che cos'è la sua architettura, in termini di componenti logici. Due le abbiamo già visti, il client e il server, il frontend e il backend. Ci sono anche dei protocolli di rete, ovviamente questa comunicazione tra il client e il server vanno su internet, nel caso di v.pulito.it, quindi ci sono dei protocolli e ci sono dei pattern di linguaggi architetturali. Allora, da un punto di vista apprettamente teorico, un'architettura web si classifica in un'architettura a n livelli, dove alcuni sono, diciamo così, fissi o standard, tipo l'application server o l'infrastruttura di internet, quella che serve per mantenere internet in piedi, di cui noi non abbiamo controllo. Altri possiamo avere scelte, tipo l'ultimo in fondo o i primi in alto. Allora, questa è un'architettura logica, concettuale che finisce vari livelli, ognuno del quale costruisce sopra l'altro. Quindi a livello più basso abbiamo cosa sono, cosa potrebbero essere quelli? Uno, c'è scritto, database. Cosa serve un database? Per tenere, per memorizzare dei dati. Magari non salvarli, ma leggerli, però comunque tenere dei dati. Quindi a livello basso è il livello dati, che può essere un database, può essere anche un servizio di terze parti. Un esempio di servizio di terze parti che un'applicazione web potrebbe essere interessato per avere dati, che non sia un database? Il meteo. Il meteo è un esempio classico, no? Non è che voi tenete in un database i dati del meteo, chiedete a chi fornisce il meteo le informazioni che vi servono. Quindi risorse dati. Queste risorse dati possono essere a casa di qualcun altro, come il meteo, e quindi saranno anche in un database, ma voi non andate a parlare col database, andate a parlare con qualcos'altro. E poi invece un database sarà in un database server, no? Che nel nostro caso abbiamo detto sarà un file, ma tipicamente un database server. E questo database server può o non può stare sullo stesso computer fisico degli altri server che sono scritti sui livelli superiori. Potrebbe o non potrebbe? Sono server logici. Sopra il livello dati c'è l'application server. Cos'è l'application server? Cosa potrebbe essere l'application server? Secondo voi? Poi lo vediamo, lo diciamo insieme, però, idee. Perché database server, abbiamo detto cos'è. è il server che... Il database server è il server che... Che contiene il database, quindi permette l'accesso al database. Benissimo. L'application server sarà il server che... Contiene l'applicazione. Contiene l'applicazione. Che cos'è l'applicazione? Che applicazione? Le funzionalità dell'applicazione. le funzionalità dell'applicazione. In parte quello, quindi in parte le funzionalità, l'applicazione, quello che deve fare, ma in parte anche le funzionalità per, per esempio, accedere al database o parlare con il livello superiore. Quelle sono cose che, ovviamente uno non è che deve fare da zero tutte le volte, ma trova già fatte, quindi costruisce su quello. livello sopra. Il web server. Perché questa è un'architettura web. Generica, ma è un'architettura web a livelli. Avete detto che il database server ha i dati, l'applicazione ha l'applicazione e il web server ha il web. Questo potrebbe essere l'applicazione, no? Chi contiene le pagine web. Le pagine web. Anche potrebbe essere l'applicazione. Che cosa fa il web server? Fa la interfaccia verso la rete eterna. Fa da? Interfaccia verso la rete eterna. È un server che sa come parlare su internet. Quindi magari non contiene necessariamente la pagina HTML, ma parla il protocollo necessario per comunicare su internet. Che è il web server? Tipicamente l'application server e il web server sono spesso forniti dallo stesso software. Poi uno va a personalizzare la parte application sulla propria application. L'infrastruttura internet. Cosa sarà mai l'infrastruttura internet? Il tutto è un po'... Black box in cui io mi collego e dall'altra parte viene portato. Sì, però cos'è l'infrastruttura internet? L'insieme degli autonomous systems. L'insieme? Gli autonomous systems. Potrebbe essere totalmente corretto, totalmente sbagliato, dipende dalla definizione di autonomous systems, ma in pratica. Cos'è l'infrastruttura internet? I router? Sì, l'architettura. Praticamente. I cavi. Il wifi, se fosse una... non fosse internet, se fosse solo un intranet. La rete. Quello che vi serve per trasmettere, per ricevere dati. Perché l'architettura assume, che è un'assunzione corretta, che questi... il web server debba poi parlare con l'infrastruttura di internet per comunicare con il client, ma sicuramente i browser e gli altri client, che sono qui sopra, non sono dove c'è il server. Perché il browser è su tutti i vostri computer. Se noi tutti insieme apriamo www.polito.it, abbiamo 50 client, che fanno la stessa richiesta, nello stesso momento, allo stesso server. Quindi abbiamo 50 di questi, che fanno una richiesta, attraverso l'infrastruttura, quindi attraverso il Wi-Fi del Poli, attraverso i router che ci sono in giro, attraverso la rete cablata, che c'è da qualche parte, se il server non fosse qui, attraverso una dorsale oceanica, magari, che porta un data center negli Stati Uniti, o in Giappone, o dovunque sia, per poi ritornare le informazioni. Quindi l'infrastruttura, che fa la richiesta e riporta indietro le informazioni. Poi, il browser, abbiamo detto cos'è, altri client, cosa potrebbero essere questi altri client? Il terminale, è un altro client. Altri client? Una stampante a specie di browser dentro, per comunicare, no? Per essere a parlare con un sito, per dire. Altri client? Molti di voi ce l'hanno sul tavolo, e non è il computer. Un tablet o? Telefono. Perché qui non abbiamo detto da nessuna parte che stiamo parlando di comunicazione HTML. Giusto? Non c'è scritto da nessuna parte. Noi stiamo parlando web. Che tutta questa roba, attraverso internet al browser, restituisca pagine HTML, o restituisca pagine in un altro formato, qui non c'è scritto. e come architettura va bene così, non esserci scritto. Poi, noi ci occuperemo di applicazioni web, visualizzabili da un browser, quindi ovviamente parleremo di HTML, CSS, eccetera, ma l'architettura si applica anche se questo application server, questo web server, invece di fornire pagine HTML pronte ad essere visualizzate, e fornisca un po' come fa l'applicazione del Meteo, i dati in qualche formato testuale, per cui un altro client invece di processare l'HTML e visualizzarlo, quello che il browser fa e che voi vedete quando fate ispezione elemento, prenda quelle informazioni e le visualizzi a schermo utilizzando un altro linguaggio. Quindi l'applicazione Android che usa questa, o iOS, che usa questa infrastruttura, questa architettura per recuperare i dati del Meteo e i dati su un database per mostrarli non i dati del Meteo. I dati, per esempio, se voi usate l'app del Poli, la fantastica app del Poli che tutti voi conoscete e apprezzate, no? Dietro, a un certo punto, un web server, un application server, un database che prende l'orario dei corsi, che è lo stesso o quasi che gli stessi dati che poi voi vedete anche nel sito web, dove la differenza è che da una parte c'è la pagina HTML e dall'altra ci sono i dati testuali che poi l'applicazione visualizzerà come l'applicazione mobile vuole. Quindi in questa architettura questi altri client non sono necessariamente, agiscono come se fossero browser, ma non sono necessariamente browser. E ovviamente anche tra l'application server e il database e anche tra l'application server e il web server ci può essere della comunicazione di rete, magari non internet, non internet, ma magari locale, tipo Ethernet, tipo Wifi, non tipo Wifi, ma tipo Ethernet in maniera più credibile. Noi in questo corso collasseremo l'intera architettura su un unico computer, perché quando noi svilupperemo, svilupperemo, avremo il database su un computer, l'application server sullo stesso computer, il web server sullo stesso computer, l'infrastruttura internet praticamente non la useremo, perché il browser sarà sullo stesso computer che abbiamo noi. Quindi tutto girerà sullo stesso computer. Però in pratica tenete sempre a mente che non è così, che l'application server, il web server e il database sono da qualche altra parte rispetto a dove siete voi col browser e che per natura un'applicazione web deve essere multi-browser, multi-finestre, perché molteplici browser possono accedere allo stesso server e devono ricevere le stesse informazioni. Non è che se lui accede alla pagina del sito del Poli, la sua pagina ha un contenuto diverso rispetto a quella di un'altra persona, quella pubblica. Ma ovviamente sarà la stessa pagina. Si accede allo stesso momento nel tempo. Da un altro punto di vista, quello che un'architettura web è composta di questi tre attori. Le abbiamo già visti due. Uno è facile, è, dire più forte, l'utente, la persona, no? Perché alla fine tutto questo non serve a niente se nessuno lo usa, no? Se una persona non apre un browser, non ci clicca e non va su un indirizzo, non parte il processo. quindi c'è la persona che fa delle operazioni sul frontend, che è quello che la persona vede e può interagire. Il vostro collega diceva prima l'interfaccia, l'interfaccia utente, quello che permette la comunicazione tra l'utente, la persona e quello che sta dietro. che nel nostro caso abbiamo detto si chiama frontend e può essere fatto in html, css e javascript. E di nuovo, questi sono i tre linguaggi che un browser capisce, html, css e javascript. Non capisce python, non capisce altri linguaggi di programmazione, solo questi tre linguaggi. Poi il frontend parla col backend, come abbiamo detto prima. Come parla col backend? Come? Che protocollo usa? HTTP. Che sta per? Hypertext Transfer Protocol. H per hyper, t per text, t per transfer. Chi non ha mai sentito HTTP? Ok. E HTTP è un protocollo di che tipo? Visto che siamo esperti di HTTP. C'è scritto anche lì. Che tipo di protocollo è HTTP? Sì. Request response, che vuol dire? Una richiesta. Che ha una richiesta e arriva una risposta. È un protocollo di tipo applicazione. Sì, nella scala, nel livello isosi, sì. In questo caso è un livello di tipo richiesta risposta. Qui ci interessa, no? Che sia un protocollo tipo richiesta risposta. Che vuol dire che c'è una richiesta e c'è una risposta. Ma che anche vuol dire che chi è che fa questa richiesta? Chi è che deve fare questa richiesta? Il client. E ci può essere una risposta in assenza di richiesta? No. No. Quindi è un protocollo e questo ha implicazioni per noi. È un protocollo per cui il client, il browser, l'applicazione che c'è nel browser, la pagina che c'è nel browser, fa una richiesta a cui a un certo punto nel tempo arriva una risposta. E non ci potrà mai essere una risposta slegata da una richiesta. Questo vuol dire che se qualcosa cambiasse nel server, nel back-end, non c'è modo in HTTP puro di informare il client che qualcosa è cambiato. Ma ci deve essere sempre una richiesta dal client che dice qualcosa è cambiato e il server risponderà sì o no e che cosa è cambiato. Perché è un protocollo di tipo richiesta e risposta. Ok. Quindi front-end, il browser, l'applicazione mobile, quello che volete, fa una richiesta al back-end. Il back-end vedete ha di nuovo due parti. Uno è l'application server quindi quello che contiene la logica applicativa che può essere fatto a differenza del front-end che capisce un browser che capisce solo HTML, CSS e JavaScript. Il server può essere fatto quasi come volete, con che linguaggio volete. Deve rispettare certe regole dettate da HTTP ma può essere fatto in Python, in JavaScript, in Java, in PHP, in... Sceglietene uno o più di uno che contiene la logica applicativa quindi quello che sono i ragionamenti, gli accessi alle informazioni, gli accessi ai file che poi verranno mandati indietro al front-end in modo che la persona possa vederli e decidere qual è il prossimo passo da fare. La logica applicativa più web server più il database e anche i file che sono sul sistema del server le immagini, i font, i video che sono sul server che vengono poi eventualmente passati al client, sono su disco, non sono su database ovviamente e vengono poi mandati indietro. E questo è il back-end. Quindi questa è un'architettura generica di un'applicazione web. Ora noi andiamo a provare a fare lo zoom su ognuna tranne l'utente di queste parti. Ok? Il browser. Questo l'abbiamo già detto in parte, no? I browser capiscono principalmente HTML, CSS, JavaScript, più altre risorse, le immagini, eccetera, che sono linkate e collegate da dentro la pagina HTML. Quindi il browser riceve a un certo punto un file HTML che contiene al suo interno un link ad altre risorse eventualmente che sono i file CSS, i file JavaScript, le immagini, i video, eccetera. Quando riceve queste informazioni il browser li visualizza a schermo. E queste sono tipicamente memorizzate o generate da un server. Quindi il server ovviamente non genera l'immagine ma ce l'ha da qualche parte la fornisce ma magari genera la pagina HTML, magari genera la pagina JavaScript. Non la crea al momento, al volo. Non è detto che ce l'abbia già fatta e la mandi. Puoi averla già fatta e mandarla così com'è oppure puoi generarla. Non l'abbiamo detto prima, diciamola adesso, poi forse c'è scritto ma già che siamo qua, visto che l'abbiamo già citato tre volte, HTML, CSS e JavaScript. Cosa sono? E qual è la differenza tra i tre, no? HTML e CSS sono linguaggi di programmazione mentre JavaScript è l'unico linguaggio di programmazione. Ok, da questo punto di vista è giusto. JavaScript è un linguaggio di programmazione, quindi ha le variabili, ha i cicli, ha tutte queste cose qui. HTML e CSS sono linguaggi di markup che servono a descrivere come qualcosa è, appare. Sia HTML che CSS. e perché perché ce ne servono due? Perché ci serve HTML e CSS? L'HTML dettagli, contenuto, il cosa c'è dentro una pagina mentre CSS è lo stile degli oggetti, degli elementi. sì, abbastanza, sì. Giustamente, l'HTML definisce com'è strutturata la pagina. Non interessa all'HTML, non è suo compito definire come appare la pagina. I colori, i font, il layout, non è compito dell'HTML definirlo. Queste cose sono definite dal CSS. Quindi, se voi avete solo una pagina HTML senza CSS, avrete giusto una lista di cose, come se apriste un file word e scriveste dentro del testo. Quella sarebbe la pagina HTML. Il CSS è quello che dice ah, questo elemento sta a destra, questo sta a sinistra, questo è rosso, questo è verde, qui c'è un'immagine di sfondo, qui no, dà lo stile. Dov'è? L'ultima S di CSS sta per style, proprio perché dà lo stile. Quindi l'HTML dice la struttura della pagina, il CSS ci dà lo stile, il JavaScript che è un linguaggio di programmazione, invece ci dà lo stile e ci dà eventualmente un po' di logica, la parte dinamica può fare paio con la logica, ci dà? Sono tutte giuste, ci dà anche l'interattività, no? Quindi l'animazione, per esempio, tipicamente, ora, oggi giorno si può fare anche in CSS, ma tipicamente si fa in JavaScript. La vera informazione nuova sulle pagine, quindi in certo senso dinamicità senza dover ricaricare la pagina, questo anche si fa in JavaScript. Quindi, dinamicità e interattività rispetto alla persona. Quindi, se la guardiamo dal punto di vista, HTML dà la struttura, CSS dà lo stile come appare e JavaScript dà eventuale interattività, eventuale dinamismo alla pagina. Bene. HTML. HTML sta per Hypertext Markup Language, come dicevamo prima, linguaggi di markup, definisce la struttura di una pagina web ed è scritta come un file di testo semplice dove ci sono una serie di tag, tipo quelli riportati nella slide, che hanno, e questo me lo sentirete dire troppe volte, un significato semantico associato. Cosa vuol dire significato semantico associato? Cosa vuol dire semantico in italiano? che la parola stessa indica, ha un significato specifico. Ok. Facciamo un esempio qui. Eder. Che cosa, secondo voi, se noi apriamo una pagina HTML, lo faremo, e scriviamo, ammesso che la pagina sia corretta, Eder. Cosa sarà l'Eder? L'intestazione. Quindi, se noi scriviamo, abbiamo una pagina HTML, scriviamo Eder qualcosa, come vi aspettate di vederla in un browser? Più grande. In alto. più grande in alto. E io aggiungo con lo sfondo verde, ma lo so. Questo non è significato, questo non è detto, perché dipende dallo stile che applichiamo. Io posso decidere che gli Eder sono piccoli, in basso e i rossi. Perché l'Eder definisce il significato semantico. Dice che nell'intenzione dello sviluppatore, nell'intenzione di chi ha creato la pagina, quello è un'intestazione, è un Eder. E quindi deve contenere le informazioni di intestazione. Poi, tipicamente, l'Eder è anche visualizzato in alto e grande, per buon senso, perché è l'intestazione, sta in alto. però HTML non definisce dove e come viene visualizzato. È il CSS, il foglio di stile, che definisce come le cose appaiono, non HTML. Quindi, in HTML noi stiamo dicendo che l'Eder, che noi vorremmo che quelle informazioni siano considerate come Eder, quindi come intestazione. Poi, se nella mia pagina web l'intestazione è in alto, in basso, a destra, a sinistra, non è un problema dell'HTML, l'HTML definisce la semantica delle cose. Così come P, immaginate cosa posso volere dire P, paragrafo, definisce che quello che c'è lì dentro ha il significato di un paragrafo e non di un'immagine e non di un titolo, perché è un paragrafo. E poi, tipicamente, un paragrafo viene visualizzato come un paragrafo di testo, però, di nuovo, nessuno vieterebbe di dire che il paragrafo va visualizzato grosso e in alto esattamente come i titoli. è il significato semantico che l'HTML associa alle cose, non è quello stilistico che è attribuito a CSS. Quindi, l'HTML è una serie di tag che si combinano tra di loro che vedremo che hanno un significato semantico associato. E il contenuto di una pagina web, come abbiamo detto, è descritto dall'HTML più il CSS. cosa succede secondo voi se manca un file CSS? A, non vediamo niente, B, vediamo uno stile di default. Vediamo la serie di default. Chi definisce la serie di default? Perché? No, per chi? Tu, dimmi. Tu definisci la serie di default? No, sei di default. il browser. Tutti i browser definiscono il suo stile di default? No, magari. No, ogni browser ha la sua variazione, ha il suo stile di default, che si assomigliano ma non sono identici, purtroppo. Quindi, per tutte le cose che non definite voi in CSS si usa lo stile di default che il browser che la persona sta usando in quel momento definisce. che è simile tra i vari browser ma non identico. Poi, cosa succede? Cliccando su una pagina web andiamo a una nuova pagina e questo andare a una nuova pagina può generare degli eventi. Click è un evento, per esempio. Lo scroll è un altro evento. E questi sono anche eventi che, interattività, dinamismo, che JavaScript può intercettare per fare qualcosa all'interno della pagina. Quindi, se io clicco qui non carico un'altra pagina ma JavaScript intercetta il click e cambia il colore. Se io scrollo JavaScript fa qualcos'altro. Quindi, l'interattività, il dinamismo. Vabbè, questo è a un alto livello come funziona un browser. Ha tanti pezzi un browser, in realtà. C'è l'interfaccia utente che la vediamo noi, c'è quello che fa il rendering dell'interfaccia, c'è quello che si occupa del networking, quello che si occupa del JavaScript, quello che si occupa anche di tenere dei dati, perché il browser ha una persistenza di dati. Quali dati, per esempio, il browser tiene? Uno oggetto che il browser tiene lo leggete ogni volta che ha aprito un sito nuovo. I cookie. I cookie sono pezzettini di informazioni che il browser tiene in maniera persistente. quando lo chiudete ci sono ancora, non vengono persi. E tra gli altri ci sono questi, i cookie che sono tenuti in un livello di persistenza. E poi ci sono l'ispezione elementi, gli strumenti di sviluppo del browser che sono utility che il browser fornisce. Quindi non solo per vedere com'è una pagina, questo è il vecchio portale della didattica, che adesso non è più visibile, dove va il giornale la slide, però essendo voi il terzo anno l'avete visto probabilmente, che potete sì visualizzare gli elementi, potete sì vedere altre informazioni, ma gli stessi strumenti del browser vi danno altre informazioni. Per esempio le chiamate, le richieste fatte sulla rete. Quello che dicevamo prima, quando scrivete www.puleto.it e promette invio, vengono mandati dei messaggi avanti e indietro. Ecco, quei messaggi ci sono, li potete vedere quali sono, quante pagine vengono scambiate, quante informazioni vengono scambiate. Tutte queste sono negli strumenti di sviluppo del browser che useremo e che anche vedremo. un altro elemento di cui parleremo un po' più avanti è, però fa parte dell'architettura web collegato con l'HTML e questo DOM che dicevamo prima. Il DOM sta per Document Object Model ed è una struttura dati standard, questa sì, è identica indipendentemente dal browser, che rappresenta il contenuto di una pagina web. e permette di cambiare, modificare, cancellare, recuperare ogni elemento HTML presente nella pagina, quindi ogni tag HTML presente nella pagina. E quando abbiamo solo HTML è utile per leggerlo, per capire qual è la struttura e JavaScript può ottenere la dinamicità e l'interattività di cui dicevamo modificando questo DOM, questa struttura. è un esempio di una pagina HTML in formato DOM. Vedete un albero in cui c'è un padre che si chiama Document, poi c'è l'elemento root che si chiama HTML, tutti i file HTML devono partire con un elemento che si chiama HTML. Al suo interno questo elemento HTML ha due altri elementi, uno si chiama head e l'altro si chiama body e questo è standard per tutta l'HTML, è sempre così. dentro il body poi ci sono vedete altri due figli uno è A e uno è H1 e ognuno ha un testo e un elemento H1 ha un elemento A anche un attributo. Allora li vedremo bene queste cose ma giusto per iniziare a capire cos'è questo. Body qual è il significato semantico che associamo a body e che non è associato ovviamente a head body ti parla dei body ci dà le informazioni utili tipo il corpo della pagina il corpo della pagina il body è tutta la pagina che vedete nel browser in realtà allora se il body è tutta la pagina che vedete nel browser l'head che cos'è? il nome il nome di cosa? che lo vedi dove? in alto non si vicino all'indirizzo dipende si l'head sono le informazioni che alcune delle quali non sono neanche visibili in realtà un'informazione che è visibile ma non all'interno della pagina ma nel browser è per esempio il titolo della pagina il nome che o è nel tab o è direttamente nella finestra del browser quella è una delle informazioni che ci può stare nel led nella testata ma non sono informazioni tranne quella a volte visibili del tutto per esempio led ci potrebbe stare la lingua della pagina web italiano inglese o keyword le parole chiave che quella pagina web fornisce di cosa parla la pagina web l'argomento informazioni che non sono neanche visibili nel browser ma sono utili per per esempio i motori di ricerca per avere informazioni aggiuntive rispetto a quello che è visualizzato andiamo giù ed per esempio è un titolo che è quello che si vede dentro la pagina dentro la browser h1 che cos'è secondo voi? no? non può essere una dimensione perché ha un significato semantico quindi non può definire una dimensione un'intestazione perché è uno l'intestazione di primo livello quanti livelli ci sono? ce ne sono sei e non definiscono ognuno una dimensione perché questo è compito del CSS definiscono un livello un'importanza h1 è quello più importante l'h2 più p è meno importante l'h3 è meno importante ancora eccetera e con uno stile di default l'h1 è anche più grosso però questa è una scelta dell'h2 questa è una scelta di stile non è una scelta semantica quello dice solo che l'e dell'h1 è il primo che deve esserci ed è il più importante dentro a un testo a a che cos'è a? lo dice il testo dice my link quindi a è un link e a per cosa sta? perché il link inizia con l'l giusto? e non ha neanche un a dentro quindi no per address tutti quelli che conoscono html cosa sta? l'avete usato sicuramente tutti quelli che lasciamola un attimo stare href invece che cos'è? e dove ci metti l'indirizzo a cui deve andare questo link è il riferimento ipertestuale no? a cui è aggiungere quindi a a sta per ancora e in inglese è comunque inizio con l'a perché questo in realtà voi l'avete probabilmente lo vedete o lo vedremo spesso usato per partire da una pagina e andare in un'altra da polito.it slash index a polito.it slash didattica ma in realtà questo può anche essere utile per creare un link all'interno della stessa pagina quindi dall'inizio della pagina alla fine quindi clicco all'inizio della pagina e vado in automatico alla fine oppure sono alla fine avete presente quando ci sono quei bottoncini in fondo alcuni siti che hanno un bottoncino che ve lo cliccate andate all'inizio della pagina quello è un link all'interno della pagina e un link all'interno della pagina si chiama ancora e si scrive esattamente come un link esterno solo che ovviamente punta alla stessa pagina ok CSS CSS definisce lo stile e come appare una pagina e definisce anche il layout della pagina e fa anche di più permette alla pagina di adattarsi a risoluzioni differenti schermo più grande schermo più piccolo dispositivi diversi computer versus smartphone preferenze tipo schemi di colori diversi per i daltonici rispetto a non questo il CSS lo supporta e media differenti il tutto in un modo standard allora perché è importante qual è la differenza tra risoluzioni differenti e dispositivi differenti perché ovviamente se guarda una pagina su mobile sarà anche di una risoluzione diversa rispetto che se la guardo su questo proiettore no? e questa è la risoluzione qual è la differenza con dispositivi diversi? con il mobile però è diversa scusami l'utilizzabilità con il mobile cioè? interagire con il mobile non è come interagire con il computer non c'è un puntatore per esempio esatto anche renderlo usabile poi diverso questo però renderlo usabile dovrebbe esserlo anche sul desktop no? da quel punto di vista certo non c'è il mouse c'è il touch qui sì però comunque è sempre un click no? in un certo senso che cosa ha in più di diverso lo smartphone a parte il touch screen ok? e sicuramente beh alcuni computer hanno anche il touch screen quindi in verticale orizzontale quando tu giri uno smartphone da verticale orizzontale cosa succede? tipicamente che si gira al contenuto dello schermo come fa lo smartphone a sapere se si gira? c'è entrambi c'è sia l'accelerometro ci sono dei sensori che sono tipicamente l'accelerometro e il giroscopio che capiscono l'inclinazione in cui siete quindi questi sono ovviamente cose che un computer tipicamente non ha un accelerometro o un giroscopio che capisce se è inclinato di 90 gradi di 25 o quant'altro uno smartphone ha quindi tutta una serie di sensori aggiuntivi che lo smartphone ha e che si può interagire in qualche modo per fare cose diverse adesso sull'adattamento serve adattare il layout ovviamente non tanto capire l'inclinazione quello serve più javascript il touch il touch prolungato è qualcosa che con un mouse invece non avete media questa è una cosa interessante qui c'è text versus video ma voi poteste fare una pagina html con uno stile per la visualizzazione nel browser e anche uno stile per la visualizzazione non nel browser ma dove? sempre su un partendo da un computer che è questo different media è sempre il media schermo quello è un media che è schermo no? perché è visibile di schermo quindi puoi adattarlo metterlo diverso perché ha meno spazio sullo schermo però questa è una nuova risoluzione device media il media non è il device il media è come viene visualizzata l'informazione no? cioè no? diciamo di no? visualizziamo in anteprima no? come lo visualizziamo in anteprima di cosa? una pagina anteprima cos'è anteprima? per esempio su teletro non possiamo visualizzare l'anteprima pagina no? modalità lettura fuo fu carello quando se voi stampate una pagina stampate la stampante è presente? ok quello è un media diverso quello è un media non screen perché non siete più su uno screen ma è un media paper no? è un media carta quindi potreste per esempio avere un CSS per il sito visto su un smartphone quindi che si adatta a risoluzione device ma anche la versione della pagina per la stampa quindi magari simile alla modalità solo a lettura quindi senza lo sfondo senza i colori eccetera quindi una modalità facilitata per la stampa e queste tutte cose che il CSS fa in maniera standard quindi per tutti e come si scrive una regola CSS? il CSS è una serie di regole che si scrivono in questo modo c'è un qualcosa che dice dove la regola si applica e poi ci sono le regole da applicare in questo caso cosa dice? poi lo vedremo ovviamente con la pronuncia CSS dice che gli elementi H1 della pagina tutti gli elementi di tipo H1 della pagina devono avere come colore blu e come dimensione del font 12 pixel quindi sono regole che specificano che cosa deve fare uno specifico elemento in questo caso l'H1 javascript ovviamente ho detto è un linguaggio di programmazione e viene eseguito all'interno del browser e il browser ha un suo motore ha un suo engine per eseguire javascript e ha una serie di funzionalità per manipolare il DOM che abbiamo detto prima per intercettare gli eventi tipo il click il doppio click eccetera e anche per accedere ad alcune API del browser tipo per esempio aprire la webcam del browser aprire la webcam del computer partendo da una pagina web o aprire il microfono a partire da una pagina web queste sono funzionalità che il browser mette a disposizione tramite sistema operativo ovviamente ok HTTP abbiamo detto che siamo tutti esperti di HTTP no? quindi HTTP ha degli elementi fondamentali una è l'url quella che scrivete in un browser che ha uno schema che è tipicamente HTTP o HTTPS poi ha un hostname www.polito.it e poi c'è qualcosa dopo l'hostname che può essere o il percorso slash didattica o una query qual è la differenza tra la query e un path visivamente come riconoscete l'uno dall'altro la query parte con un punto di domanda e voi potreste avere user su uno contact punto di domanda eccetera in quel caso sarebbe un path più una query oppure potrete avere anche un asterisco che si chiama fragment è quell'ancora che dicevamo interna alla pagina e questa è solo la URL dopodiché il protocollo HTTP ha una richiesta che ci interessa fino a un certo punto potete vederla e ha una risposta che arriva dal server e dentro la risposta HTTP potete vedere che c'è la pagina HTML quindi la pagina HTML arriva insieme alla risposta HTTP quindi la richiesta HTTP dice vorrei la root quindi www.pulito.it slash basta da www.pulito.it chi fa la richiesta in questo caso Firefox cosa voglio in questa richiesta HTML principalmente o una qualche variante e anche delle immagini in un certo formato quali sono i linguaggi che accetto una serie di proprietà che accetto se c'è un cookie lo mando anche in questo caso e il server prende questa richiesta e mi fornisce una risposta compatibile con la richiesta che include appunto la pagina HTML intera quindi se noi chiediamo pulito.it tornerà a una pagina HTML che avrà un titolo che è Politecnico di Torino e poi il corpo il body l'head tutto quello che dicevamo prima quanto vogliamo andare in dettaglio su HTTP? non ci serve tantissimo però quanto vi sentite di non sapere di HTTP? ok da 1 a 10 dove 1 e niente 10 esperto quanto vi reputate su HTTP di saperne? 1 sulla mano 1 ok sufficiente allora HTTP la richiesta è tutto gestito automaticamente quindi noi non andremo mai a scrivere pacchetti HTTP a mano ovviamente ci penserà il browser a mandare richiesta HTTP e ci penserà il server a fornire le risposte quindi noi dovremmo solo dire fornisce una risposta quindi la richiesta arriverà dalla client e noi dobbiamo fornire una risposta poi la risposta può essere vuota un corpo vuoto quindi qui c'era una risposta che era il file HTML però può anche essere vuoto in caso di errori e può esserci un file l'HTML il file CSS l'immagine eccetera e può essere o qualcosa che viene preso dal server messo in un pacchetto HTTP e mandato oppure generato automaticamente dall'application server come è in molti casi per HTML e l'HTTP non gliene frega diciamo così non interessa qual è il significato di questo di quello che è inserito qui non gli interessa che sia HTML CSS sa che deve trasportare qualcosa e lo trasporta sarà poi il browser o chi lo riceve gestire la richiesta e appunto è il browser che in quel caso prende la richiesta se è un qualcosa che può visualizzare visualizza oppure no come funziona questo l'abbiamo già detto no? come funziona io scrivo un'orrella nel browser premo invio faccio una richiesta HTTP con queste informazioni polito.it arriva questa richiesta server che fa qualcosa fa una query interroga il database eccetera crea o prende una pagina HTML e la rimanda indietro al browser che la visualizza questo l'abbiamo raccontato prima parole qui è visualizzato e HTTP ha una serie di metodi che noi andremo ad un certo punto ad averne a che fare e i principali sono quali sono i principali? get post put e delete gli altri vengono utilizzati ma espressamente noi quando lavoreremo con server useremo la get la post la put e la delete i browser nativamente sanno avere a che fare con le get e con le post le delete per esempio no bisogna per esempio farle in javascript le delete e questi vari metodi hanno vari significati che dispongono anche del corpo della richiesta eccetera quindi la get per esempio non ha tipicamente opzionale un un allegato nella richiesta la get serve per recuperare informazioni quindi io chiedo dammi la pagina pulito.it non devo allegarti dei dati perché è già nell'intestazione della richiesta la risposta di una get ha sempre un corpo perché se io voglio dei dati la richiesta deve ritornare dei dati la pagina html indietro la post ha sempre un corpo la post serve tipicamente per creare qualcosa su server quindi se voglio creare qualcosa voglio passare delle informazioni devo passare queste informazioni e la risposta ha sempre un corpo di risposta il fatto che l'informazione sia creata o quant'altro stessa cosa per la put la delete invece di nuovo come la get non ha un corpo nella richiesta ma ce l'ha nella risposta che è quello che voglio come è andata l'operazione di cancellazione in un certo senso quindi la get serve per richiedere informazione come dice il nome il post serve tipicamente per creare la put serve per creare o più spesso aggiornare delle informazioni e la delete come dice il nome serve per cancellare delle informazioni e chiaramente per creare o aggiornare delle informazioni ho bisogno di passare le informazioni che voglio creare o aggiornare web server i server come abbiamo visto prima nell'architettura multilivello c'è una definizione logica e una definizione fisica la definizione logica è quella che abbiamo visto prima nell'architettura di alto livello quella fisica è dove sta fisicamente il computer su che computer su che sistema sa su che server sa il web server fornisce risposte web risorse web pagina html per esempio in risposta a una richiesta ed è quello come dicevamo prima che gestisce tutte le richieste http gestisce il protocollo e sempre come dicevamo prima legge o genera pagine web che sono fornite indietro quando le legge le legge dal file system come pagine statiche o come immagini per esempio altrimenti se deve generarle non le genera lui ma chiede all'application server di generare il contenuto che poi il web server ritornerà indietro al client che la richiesta ogni richiesta ha una connessione http che viene aperta e chiusa ogni volta e il web server è multiprocesso multitread e quant'altro perché ovviamente come dicevamo prima immaginate di avere 50 client che chiedono la stessa pagina nello stesso momento quindi deve fornire questa pagina nello stesso momento non può dire aspetta che finisca la pagina al primo e poi al secondo e il cinquantesimo client aspetta due minuti per avere la pagina devono essere fornite più o meno in contemporanea perché le richieste arrivano in contemporanea quindi è multiprocesso ci sono un certo numero di web server esistenti il più popolare o uno dei più popolari vedete questo che si chiama paci in realtà è stato superato recentemente da quest'altro che si chiama ngx sono server web che si possono installare sono installati sono quelli che ospitano la maggior parte dei siti web e nel nostro caso sviluppando in locale sviluppando su un computer avremo il web server e l'application server che sono forniti da python e da flask quindi non avremo niente da installare a parte ecco python in realtà di default fornisce un web server che si chiama http.server e noi come dicevo prima useremo flask che ci permette anche di generare di usare come application server e abbiamo scelto flask perché è semplice è minimale non fa tante cose in automatico fa quello che servono ed è facile stenderlo con delle varie estensioni ha dei plugin che si possono utilizzare per fare cose più complicate se si volessero e il server python quello http.server è proprio base dovete quasi scrivervi voi il pacchetto http a mano poco di più quindi è proprio veramente base flask è un pochino più avanzato ci sono altre alternative che sono linkate qua dove quella che voglio citare è Django che è un web server molto famoso in ambito python che si chiama full stack o full fledged perché fa tutto ha un sacco di automatismi ha un sacco di cose e batterie incluse si dice ha un sacco di automatismi un sacco di cose che fa da solo voi volete per esempio la registrazione e il login lui ve la genera da solo tutta la parte di registrazione con le pagine web per fare registrazione login eccetera molto comodo quando sapete fare le cose se dovete imparare è molto fidatevi che lui faccia le cose bene noi qui stiamo nella parte imparare quindi costruiamo usando qualcosa di più semplice che ci dà un po' di funzionalità ma non ci fa tutto al posto nostro e ci obbliga a seguire le sue regole perché ovviamente ha delle regole per cui le cose funzionano in un certo modo per esempio le url devono essere fatte in un certo modo in Django mentre in Flask abbiamo la libertà di scegliere noi come fare le url delle pagine web e poi c'è il livello persistente che o è il file il file system quello su disco quindi l'immagine eccetera che viene letta se è un server che gira su linux sarà un file linux se gira su windows sarà windows eccetera e il database che abbiamo detto prima MySQL è un database Postgre è un altro database MariaDB è un clone di open source di MySQL e poi c'è per esempio SQLite che è un database molto minimal su file che useremo noi che per quello che dobbiamo fare va più che bene questi sono i tre elementi principali come si mettono insieme noi nel corso useremo quella che viene chiamata che abbiamo chiamato qui l'architettura tradizionale quella che abbiamo esemplificato prima io faccio una richiesta al sito del poli il poli mi restituisce una pagina clicco su un link faccio un'altra richiesta e mi restituisce un'altra pagina il server manda una nuova pagina html tipicamente generata da server a ogni richiesta che riceve con le sue risorse css file immagini eccetera e alcune parti di questa pagina potrebbero essere aggiornate dinamicamente attraverso javascript quindi interazione avanzate eccetera e in questo caso si dice che un'applicazione web sta facendo un rendering server side perché la pagina web viene creata dal server sempre tutte le volte quindi come la pagina è strutturata come apparirà è definito da server il client non fa altro che prenderla e visualizzarla così com'è senza fare molte operazioni e si dice anche che in questo caso abbiamo creato un'applicazione web multipagina perché ogni richiesta sarà una pagina nuova quindi la prima pagina sarà una pagina che tml che riceviamo se schiacciamo su un link riceviamo una seconda pagina e quindi è una richiesta è un'applicazione multipagina e questo è quello che più o meno succede se abbiamo anche una parte javascript senza la parte javascript abbiamo esattamente il processo qui c'è anche il database che abbiamo visto prima c'è una url o scritta nel browser o raggiunta tramite un link c'è una richiesta http il web server l'application server ricevono la richiesta spacchettano il pacchetto http fanno delle cose di logica fanno delle query se serve compongono la pagina l'html la inviano in una risposta e il browser la visualizza se avessimo un po' di javascript cosa succederebbe? che o il javascript va a manipolare direttamente la pagina visualizzata qui quindi queste freccettine qua quindi il javascript modifica la pagina visualizzata ma non fa nessuna operazione oppure in casi più avanzati che non riusciremo a vedere nel corso il javascript salta vedete direttamente questo passaggio e va a parlare direttamente usando internet col server web quindi serve il processo standard che usa il browser quando cliccate su un link e parla direttamente col server web e non riceverà più delle pagine html ma riceverà delle pagine in altro formato che conterranno solo le informazioni che servono a javascript per andare poi a modificare la pagina visualizzata sul server questo pezzo noi non lo faremo nel corso ma è un qualcosa che poi porta verso quindi questo javascript che prende sempre più autonomia sempre più potere su quello che viene visualizzato nella pagina saltando anche questo pezzo in mezzo che è il pezzo che fa il browser tradizionalmente ma utilizzandolo per altri percorsi per recuperare le informazioni e recuperare le informazioni non in formato html ma in formato testuale per avere i dati da poi visualizzare come javascript decide quindi spostare un pezzo della logica nel client invece che nel server questo è quello che esisteva nel metodo tradizionale che ha portato poi a dei pattern più moderni il primo dei quali che adesso non si usa più tanto chiamarli in questo modo è quello che si chiama single page application io vi ho detto che col pattern tradizionale otteniamo un server un'applicazione multipagina ogni volta che faccio una richiesta ottengo una nuova pagina la single page application invece cosa dice che ogni volta che faccio una richiesta ottengo sempre la stessa pagina quindi invece di avere un'applicazione multipagina ho un'applicazione che ha una sola pagina html che è sempre la stessa per quella url e poi è il client e javascript che si preoccupa di fare tutto il lavoro che in un'applicazione tradizionale fa il server quindi scarichiamo la responsabilità e il lavoro dal server a ogni singolo client che gira su ogni singolo computer di ogni persona questo è quello che in maniera sim che per esempio questo è quasi quello che fa Instagram a giorno d'oggi ogni volta chiede le informazioni ma non chiedono la pagina la pagina è sempre la stessa cambiano le informazioni al suo interno quindi il server manda sempre la stessa pagina web qualunque richiesta riceve ottiene sempre la stessa pagina web ed è il client javascript che modifica il contenuto e chiede le informazioni in formato diverso da html che gli servono per avere per visualizzare correttamente la pagina questo è veramente un'evoluzione dell'approccio tradizionale lo vedete qui questo è l'approccio tradizionale e questo è l'approccio single page application in cui a un certo punto c'è una richiesta http c'è la prima pagina e dopo la prima pagina si scambiano non più pagine html ma questo json che è un formato testuale di scambio dati libero quindi informazioni e esempi qui sono google doc è un esempio di una single page application ma instagram è un altro esempio qual è secondo voi e poi chiediamo i vantaggi e i svantaggi di questo approccio single page rispetto a quello tradizionale non c'è carico sul server non c'è carico sul server e dove lo mettiamo questo carico? su client su client però è dell'utente compra lui l'hard bene o male ed è l'utente compra lui l'hard quindi se tu aggiorni il computer frequentemente sei a posto se hai un computer di dieci anni fa mi spiace per te scarica il lavoro scarica il lavoro sul server sul client è un po' uno svantaggio un vantaggio è che però dato che il lavoro lo fa il client è potenzialmente più veloce perché non riceve riceve solo le informazioni grezze non riceve tutte le informazioni semantiche non riceve tutto lo stile non riceve tutte queste informazioni di visualizzazione che le ha già e quindi deve solo processare le informazioni questo testo è da mettere in quel posto però non ti ricarico l'intera pagina ti passa solo il testo che è cambiato quindi è potenzialmente più veloce rispetto all'equivalente multi applicazione ci sono dei problemi ovviamente può essere lento che era la svantaggio di prima per la re-rendering se il client se il computer è un po' vecchio eccetera ci sono delle problemi di sicurezza perché tutta la logica è nel client il server diventa stupido il server diventa solo un collettore di informazioni che passa informazioni in giro non fa più nessuna generazione di pagina HTML eccetera l'ottimizzazione per i motori di ricerca è difficile e la history del browser non funziona se non con dei trucchetti delle estensioni la history del browser è quando voi promette il bottone indietro nel browser per esempio lì non c'è un'altra pagina a cui andare indietro perché è sempre la stessa pagina quindi qual è l'indietro e allora lì si sono inventati il routing client side che è un pezzettino in più che bisogna aggiungere che va a parlare col browser è più complicato perché il comportamento di default è quello tradizionale quando torno indietro torna la pagina indietro ma qui non c'è una pagina indietro perché è sempre la stessa pagina quindi dove torno dove vado cosa visualizzo quindi c'è stata una serie di workaround per farlo e poi ci sono altri due approcci moderni e qui davvero lo chiediamo in realtà il giorno d'oggi Instagram e altri sono più queste applicazioni isomorfiche queste applicazioni isomorfiche sono un mix tra l'approccio tradizionale e l'approccio single page application cioè non è più una single page ma non è neanche una multi page c'è un po' di rendering che viene fatto nel server come era nell'approccio tradizionale e un po' di logica che si distribuiscono i carichi ognuno fa bene in un certo senso il proprio lavoro il client fa bene il proprio lavoro da client e il server fa bene il lavoro di server come immaginare il lavoro che sta a fare come potete immaginare questo è molto più complesso rispetto all'approccio tradizionale e rispetto all'approccio single page application ma è quello che oggigiorno nel mondo sviluppo web di un certo livello si fa si applica principalmente noi rimaniamo a quello tradizionale perché è quello più semplice quello per partire più appropriato e dicevamo per esempio prima che in quel corso che il vostro collega citava alla magistrale si segue l'approccio single page application per esempio non tanto questo isomorfico che è un mix tra i due e poi c'è un altro trend che non è un'evoluzione dei precedenti ma è una cosa parallela che si chiama progressive web app che sono applicazioni web che emulano le applicazioni mobile native quindi questo si applica solo al mobile quindi applicazioni web che fanno finta di essere applicazioni native e quindi hanno accesso per esempio alle notifiche possono generare notifiche come genererebbe un'applicazione nativa questo è giusto per completezza di pattern moderni ma queste applicazioni web sono applicazioni web normali hanno solo cose in più che sugli smartphone e sui tablet permettono di utilizzare certe funzionalità in più che le applicazioni native hanno e le applicazioni web tipicamente non hanno va bene qui ci sono un po' di reference se qualcuno è curioso di come funziona un browser web c'è anche un po' di documentazione Google che lo racconta ma se siete curiosi altrimenti questo è quanto se avete domande sono ancora qui per 5-10 minuti tempo che stacco altrimenti ci vediamo giovedì dove parleremo di html in aula r4b buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti